buongiorno a tutti io sono dimitri bellini e siete di nuovo qua con me nel mio canale quadrata il canale dedicato al mondo dell'open source e all'it in generale all'it dei geek che ci piace a noi e questa settimana andremo di nuovo a parlare perché mi sono un po ingrifato con le action del nostro amico zabbix quindi cosa andremo a scoprire andremo a vedere la network discovery perché anche questa è un metodo per automatizzare e semplificare tutto l'inserimento degli host che sono all'interno della nostra infrastruttura e quindi andiamo con le mie famose slide quindi abbiamo detto cosa ci serve ci serve di nuovo per sostanzialmente migliorare e automatizzare quei processi che erano noiosi di andare a beccare gli oggetti che stanno all'interno di questa della mia network verificare che tipologia di oggetto è e quindi poi anche assegnare o inserire all'interno di un di un host group corretto questo è molto utile magari se abbiamo degli oggetti che si aggiungono o si tolgono all'interno della nostra network tipo uffici o altre situazioni in cui è importante controllare gli oggetti che stanno entrando o uscendo all'interno nella nostra network che cosa ci serve per iniziare a utilizzare questa network discovery vabbè chiaramente zabbix ma quello che è fondamentale è definire i range delle subnet perché perché noi possiamo operare su diverse subnet possiamo usare dei range di ip e applicare che cosa andare applicare delle regole per cui andare a prendere quello specifico device in base al fatto che si presenta in un certo modo e a questo punto abbinando anche delle action di tipo network discovery potremo a eseguire delle operazioni come abbiamo visto nel nostro precedente video che vi vinco qua sopra delle autoregistrazioni quindi potremmo essere notificati potremmo fare delle automazioni aggiungi o togli questo host associa il template x quindi molto molto comodo e sostanzialmente ecco che cosa ci quali sono i benefici di questa tipologia di di funzionalità di zabbix andiamo avanti e andiamo a vedere quale in generale cosa possiamo andare a definire all'interno di queste network discovery ci sono varie opzioni quindi noi possiamo anche avere 10 network discovery abilitate con varie tipologie di ip range o anche col medesimo ip range perché perché magari vogliamo andare a fare che cosa a evidenziare come vedete qua il fatto che c'è un servizio ben preciso perché io posso controllare i vari servizi classici ftp ssh eccetera o anche specifiche porte tcp oppure posso andare a verificare se su questo host che si presenta nella nostra network c'è installato l'agente zabbix e mi risponde in una certa maniera con una specifica informazione stessa cosa vale anche per il mondo snmp quindi io posso andare a beccare degli oggetti di tipo snmp che si presentano con una specifica oid che mi dà quel valore ben preciso ok e questo capiremo dopo perché è utile questa funzione occhio che non l'ho detto non confondiamo la network discovery di zabbix che è un network scanning di una specifica rete e non è invece la realizzazione di una network topology e quindi come sono collegati tra di loro i device che compongono la nostra rete ok quando andiamo a definire una regola e questa è proprio la schermata di creazione di una regola di discovery noi andremo a definire un nome eventualmente se questa questa network discovery è da fare su uno specifico proxy l'eventuale ip range e come vedete qua va da 1254 ma io potrei anche aggiungere più sottoreti separate da virgole e l'update interval quindi ogni quanto andare a fare questa scansione della rete tenete presente che comunque un processo abbastanza lento perché non è che va a martellare dispositivi va pian piano a controllare tutti gli ip quindi un intervallo di un'ora direi che è più che sufficiente e poi i famosi check che vanno a determinare quale dispositivo dei tanti che sono all'interno della mia della mia network deve essere beccato da questa network discovery in questo caso ho voluto utilizzare un dispositivo che espone delle informazioni di tipo snmp sulla specifica oid che mi fornisce la descrizione dell'oggetto e il suo nome questo qua è il nome perché perché sfruttando questi due check io poi posso andare a definire qua nei device unique criteria anche sostanzialmente il metodo per dire ok questo qua è univoco è un oggetto univoco all'interno della mia network e ma potevo anche scegliere per esempio il nome dell'host che proviene dal dalla query snmp che si chiama sysname poi altro parametro fondamentale e da dove prelevo l'informazione dell'host name che andrò a a creare no all'interno di zabbix vi ho detto dal dall'oid che mi fornisce il sysname e il visible name boh l'ho lasciato uguale identico allo snm ok non mi serviva e non avevo altri altri dati questa configurazione dove andate a farla all'interno del menu laterale di zabbix sotto data collection discovery ok qui andate a creare le regole di discovery se la regola di discovery funziona come facciamo a vedere gli oggetti che effettivamente ha trovato e se noi andiamo sotto monitoring sempre dal menu laterale di zabbix sotto la directory sotto la directory sotto il menu discovery vi proporrà tutto un elenco di oggetti che ha discoverato nel mio caso la regola di discovery si chiama mai network discovery ha trovato due due host tra virgolette due device uno che è punto 149 e l'altro 188 uno è una lì una ilo hp e quindi mi ha trovato le informazioni che io gli avevo detto di cercare e quindi è comparsa all'interno di questo gruppo e poi questo qua pfsense che quello che volevo automatizzare 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 appunto facendo che cosa andando a creare sotto alert action discovery action una discovery dedicata per automatizzare l'assegnazione di questo host a uno specifico host group e anche alla segnazione di un template come faccio a definire le condizioni di questa di questo match facilmente ed è molto simile alle action che abbiamo visto in precedenza anche qua abbiamo un nome della nostra specifica action e l'ho fatto molto simile alla network discovery in modo tale da non confondermi e poi ho introdotto delle condizioni chiaramente una condizione fondamentale che è molto utile direi è il fatto che l'oggetto che sta arrivando proviene dalla specifica network discovery che si chiama my network discovery snmp device dopodiché gli dico guarda fai un controllo e verifica se contiene il il valore ricevuto la parola pfsense e altro parametro molto utile è uptime downtime is great and then or equal 60 questo cosa vuol dire vuol dire che non mi va aggiungere questo appena lo trova ma gli diamo una persistenza e ci serve questo perché perché in questo modo se arriva un dispositivo temporaneo no che magari sta per cinque minuti non lo vado aggiungere all'interno di zabbix come anche non lo vado a rimuovere dalla configurazione di zabbix se non non si vede più da chissà quanto tempo chiaro bisogna creare due action separate ok per fare la rimozione qua lavoriamo nel campo invece dell'aggiunta e configurazione di questo host quindi qua gli ho chiesto gli ho detto di fare in modo di verificare che questo host sia almeno da un minuto presente all'interno della nostra network ok ci sono varie opzioni di condizioni che possiamo fare possiamo fare sull'ip dell'host con cui si presenta questo host possiamo andare a verificare anche la tipologia di servizio tcp ftp che avevamo discoverato quindi può essere più o meno complicata questa questa regola possiamo anche a verificare che la discovery provenga da uno specifico proxy perché magari i comportamenti sono diversi che dobbiamo attribuire e poi nelle operation abbiamo un insieme di opzioni molto molto ricche io adesso non le ho messe tutte ma queste sono le principali quindi possiamo avere una notifica quindi ci arriva una notifica mi dice guarda si è presentato questo nuovo oggetto all'interno della tua network e potrebbe già essere sufficiente oppure possiamo aggiungere e rimuovere l'host o collegare o scollegare il template o eseguire dei global script anche in questo caso come vedete le option sono parecchie e sono molto utili perché vanno a soddisfare un insieme di magari di requisiti quando dobbiamo far registrare appunto un nuovo oggetto all'interno del nostro Zabbix e cosa interessante da tenere presente è che nella versione 7.0 di Zabbix comunque ci sono ancora degli sviluppi in corso per migliorare le performance di questa network discovery in particolare andranno a bilanciare i processi nei casi in cui facciamo un uso abbastanza pesante delle network discovery magari su più segmenti e quindi ci sono un bel po' di network discovery che girano continuamente quindi anche nella 7.0 vedremo dei miglioramenti in questo campo se noi andiamo a vedere qua nel nostro Zabbix cosa è successo non riesco a farvi vedere tutto il processo perché è un po' lungo però vi faccio vedere partendo dal monitoring, discovery vedete che qua abbiamo il mio PFSense che è stato trovato e quindi all'interno di Zabbix io avrò, vedete, il mio host che si chiama PFSense con attribuito il corretto template e tra l'altro, vedete, mi viene messo nel gruppo corretto, nello sgroup corretto e anche nello sgroup discovery, discovered host perché questo? Perché in automatico Zabbix ve lo aggiunge all'interno di questo host group per farvi capire che arriva e frutto di una discovery tutti gli altri campi sono stati messi in automatico basandosi sul fatto che è riuscito a fare la discovery su quell'IP e ha recuperato anche il nome DNS e quindi direi che ha fatto un ottimo lavoro il nostro Zabbix e da questo momento chiaramente avremo anche tutte le informazioni che ci provengono dal template andiamo a vedere velocemente anche la fase di data collection discovery quindi la definizione di questa regola quindi my network discovery è questa è un po' diversa dalla slide ma sostanzialmente ho messo gli OID anziché la stringa che rappresenta l'OID questo perché nel mio caso non riusciva a risolvere la stringa e quindi ho messo l'OID direttamente e qua ho complicato un po' perché ho voluto farvi vedere che si può utilizzare dei range specifici anche separando queste ricerche con una virgola quindi qua potreste metterne indefinite come regole di network scanning e poi la nostra action all'interno appunto di alert action discovery action questa con lo stesso nome della regola di discovery e poi vedete qua ci sono le varie condizioni con le operazioni che ho fatto quindi aggiunta host, aggiunta host group e poi il collegamento al template corretto tutto questo perché chiaramente la condizione era vai a cercare la parola pfsense ok? perché è fondamentale avere un metodo per poter trovare proprio l'oggetto che state cercando immaginate per esempio Cisco quanti dispositivi ci sono all'interno della network che si chiamano Cisco magari dobbiamo beccare l'oggetto che si chiama Cisco ma anche il modello corretto per assegnare il template corretto detto ciò ragazzi se lo trovate interessante chiaramente lasciatemi un feedback ditemi la vostra anche nei commenti e la prossima settimana magari vediamo qualche altra cosa magari cambiamo anche il tema non parliamo sempre di Zabbix ma su qualche altra tecnologia open source detto ciò un saluto da Dimitri e ci vediamo la prossima settimana grazie ancora a tutti e iscrivetevi anche alla community Telegram Zabbix Italia siamo in tantissimi e magari ci mancate solo voi un saluto a tutti ciao